È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente, Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, quindi la mia azienda presente a Pesaro in Viale Gramsci 39, che poi sarà anche il punto di partenza della nostra camminata alle 10 dell'8 marzo, e insieme alla palestra Movens di Villa Fastigi. Insieme abbiamo voluto promuovere la valorizzazione della donna nella sua propria giornata di rappresentanza, ma anche insieme alla valorizzazione abbiamo voluto proprio spronare la donna che invece si è fermata nel mettersi in cammino, quindi si è un attimo adagiata a causa semmai di sofferenze, quindi come potrebbero essere delle malattie, malattie oncologiche, oppure addirittura per lo stesso Covid, quindi che l'ha un attimo demoralizzata e non fatta più ripartire verso il suo futuro che si merita. Quindi è un modo per spronare tutte le donne che si sono fermate a causa di tanti vicissitudini, ma anche di valorizzare la donna che invece vede sempre proiettata la sua immagine verso un futuro, quindi una donna che pensa alla sua visione futuristica in maniera eccoattiva, quindi facendo sempre il primo passo. Allora, dal nostro centro di rimessa in forma funzionale partiamo praticamente alle 10, e procediamo verso la palla del pomodoro, dove ci sarà il primo pit stop di attività di fitness consapevole che valorizza sempre di più un fitness slow, quindi ad un giusto ritmo e personalizzato proprio all'utente, che non è un'attività estenuante come quella che si può fare nelle normali palestre, quindi anche un'attenzione particolare a far rientrare queste donne nella loro propria eccettività, quindi nella loro consapevolezza, nel loro sentirsi. E poi il secondo pit stop sarà alla Rotonda Bruscoli, in spiaggia, quindi ci sarà un'altra attività che potrebbe essere o lo yoga o il girotonic addirittura, e poi il terzo pit stop termina appunto in Piazza del Popolo, dove appunto ci saranno gli altri personal trainer con un'altra ulteriore attività. Si può partecipare anche l'uomo, in quanto proprio è giusto così, perché si vede sempre noi donne che siamo viste come il sesso debole, come l'uomo che è sempre emerso di più rispetto alla donna, non è assolutamente così, anzi sfatiamo questo mito, anzi vediamo sempre di più l'uomo, anche in questa iniziativa, accanto alla donna nel sostenerla, nell'appoggiarla, nel suo andare avanti. Per le adesioni ci sarà questa locandina che girerà tantissimo sui social e sui nostri siti web, quindi della palestra Movens e di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, ma anche all'interno di tutti i canali social e siti di ConfCommercio e di Terziere Donna, ConfCommercio Pesaro Urbino e del Comune di Pesaro. Quindi comunque sia per le adesioni possiamo contattare il 329 7718776, Marica, la nostra segretaria, e lasciare oppure le adesioni attraverso una mail ad info chiocciola esteticamente stella.it o segreteria chiocciola esteticamente stella.it